Diario di Bordo, data astrale, sesto giorno, sempre, Diario del Capitano, ci troviamo in una lieta ridente frazione della cittadella di Roma, nel quartiere di San Lorenzo, e qua come potete vedere c'è la fauna locale, molto allegra, molto simpatica, insomma devo dire che è bello, io ricordo qua, ho passato gran parte della mia gioventù, è bello, San Lorenzo è proprio bello, non c'è niente da dire, bene, detto questo, basta, dobbiamo aggiungere qualcos'altro, Emanuele? Che io dimo? Che io dimo? Che io dimo? Che io dimo? Ah, in un momento, visto che... Come ci sono? Ma poi abbiamo ormai il marmoglio, ci sono preparati, ci salutiamo, ciao! Lulula!